Tutto il collegio è solo su RaiPlay. Scarica l'app. Sono Daniele, ho 16 anni e mi chiamano Il Gigante Buono perché sono alto, però ho il cuore d'oro. Quello studio per me è zero. Dalla mattina alla sera sono in giro con il motorino. Lo modifico, lo riparo. Sto imparando anche a impennare. Scommato. Essendo dell'Aquila nel 2009 abbiamo affrontato il terremoto. Io all'epoca ero piccolino, principalmente non mi ricordo niente di quello che è accaduto, però mio padre e mia madre hanno fatto sembrare che non mi accorgessi. Mi hanno fatto vivere quel periodo con tanta serenità. Io prima di pensare a me ho pensato a lui perché era il più piccolino della famiglia. Stava nel lettino, io l'ho preso al volo mentre ancora si muovevano i muri delle casi. Era un cucciolotto. Si, ha preso questo fagotto e è cominciato a scendere giù per le scale. Il primo istinto è stato questo. Mi reputo affottonato avere due genitori come loro. Quello il mondo. Un luogo del mondo. Distrattato di呢le Morning